La posizione non può che altro che evidenziare ciò che hanno già abbondantemente evidenziato anche questa volta i revisori dei conti. Io non so come arriveranno nella prossima ricognizione perché all'approvazione del bilancio preventivo i revisori dei conti erano preoccupati di evidenziare come avrebbero ogni tre mesi controllato l'andamento di Cassa. Oggi c'era addirittura il parere sfavorevole dei revisori dei conti. Io penso che questa giunta debba trarre le conclusioni e evitare questa lunga agonia che il Comune di Napoli e la città sta subendo ormai dagli ultimi anni. Quindi dovrebbero dimettersi, far commissariare il Comune di Napoli e arrivare a nuove elezioni. Altrimenti dovremmo chiedere un distesto perché con il nuovo debito censito non so questa città come si salverà. Mi pare anche strano che oggi si faccia questo consiglio dopo il parere negativo dei revisori dei conti avremmo dovuto avere tutti un po' più di prudenza anche perché è un parere che colpisce la struttura di questo rendiconto di gestione perché è evidente che se a fronte di 116 milioni di euro che andavano ricavati dalla vendita del patrimonio se ne ricavano solo 4, se ancora una volta abbiamo una incapacità a riscuotere e con i bilanci che sono ormai di cassa e non più di competenza la liquidità diventa un tema vero. Se c'è una criticità sulla liquidità, se non riesci a rispettare le due leve che ti avrebbero garantito la sopravvivenza finanziaria è evidente che i revisori dei conti colpiscono il cuore di questo rendiconto. Noi presenteremo una pregiudiziale per cercare di spiegare queste ragioni all'Aula, dopodiché ognuno si assumerà evidentemente la responsabilità di quello che vorrà votare noi per responsabilità nei confronti della città. Pensiamo che sia arrivato il momento di fermarsi. Abbiamo preso atto di questo parere non favorevole dei revisori che è l'elemento definitivo che sancisce in qualche modo quello che è la mala gestione amministrativa di sette anni di attività di De Magistris. Se lo dico perché voglio fare le pulci a quello che in qualche modo è anche una situazione resa difficile da un debito che viene dal passato. Io questo lo riconosco, credo che chiunque, anche noi delle opposizioni, riteniamo che alcune ragioni vi siano in quella che è stata la difficoltà di amministrare la macchina pubblica di De Magistris, però questo non giustifica un elemento. Sul versante delle entrate tributarie, sul versante della vendita del patrimonio pubblico, tutto quello che cioè doveva servire in qualche modo a fare cassa e a riparare e a mettere in qualche modo alla pari le entrate che servivano al piano di riequilibrio che noi comunque dobbiamo garantire affinché il debito, il credito per meglio dire che c'è stato dato, dovremmo restituire, beh tutto quello che doveva entrare non è entrato, non è stato fatto un solo passo in avanti o diversamente non è stato registrato un aumento di quelle che erano le percentuali, anzi ci troviamo in una condizione di netto decremento rispetto allo scorso anno. Sicuramente questa amministrazione ha fallito e bisogna comprendere in che maniera mettere su una procedura di dissesto guidato, qualcosa che possa ovviamente non penalizzare ulteriormente la città.